Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di BlackGit Tutorial In questo video vi farò vedere come poter salvare i certificati SHSH di iOS 6.1.2 con il programma Tiny Umbrella Vi avevo già fatto un video in cui vi spiegavo come salvarli con ISHSHit, un tweak di Cydia in attesa appunto che Tiny Umbrella venisse aggiornato, quindi di conseguenza supportando la nuova versione iOS 6.1.2 Quindi detto questo andiamo su questa pagina del blog ufficiale degli sviluppatori di Tiny Umbrella e scarichiamo il programma come vedete qui per Mac OS X oppure per Windows Lo scarico per Mac OS X, lo salviamo in scrivania E come vedete il download è completato Per far funzionare Tiny Umbrella vi servirà anche un programma chiamato Java Nel caso di Mac OS X è già incorporato nel software, mentre nel caso di Windows lo dovrete scaricare da questo link cliccando su Download Gratuito di Java e una volta appunto scaricato il programma Tiny Umbrella e anche Java apriamo l'archivio zip che conterà appunto l'applicazione in sé Avviamo quindi Tiny Umbrella mettiamo la nostra password e si avvierà appunto il programma A questo punto assicuratevi che il vostro dispositivo sia connesso al computer andate su Advanced e dovete togliere la spunta su Request SHSH from Cydia A questo punto sul vostro desktop create una nuova cartella chiamate SHSH andate qui sui tre puntini e andate a selezionare la vostra cartella Choose A questo punto tornate in General cliccate ancora sul vostro dispositivo e cliccate su Save SHSH e come vedete ci avrà salvato tra i tanti certificati quello del 6.1.2 e ce lo potremo appunto ritrovare nella cartella SHSH ecco qui quello del 6.1.2 benissimo ora vi dico un attimo a cosa servono i certificati SHSH per chi non lo sapesse servono semplicemente a fare un downgrade quindi a tornare indietro nel caso appunto non siete soddisfatti di un update tipo quando Apple rilascerà iOS 6.1.3 voi con questo certificato potrete tornare alla 6.1.2 mentre senza il certificato è impossibile vi ricordo che comunque il downgrade per ora è supportato solo solamente dai dispositivi con un processore A4 o inferiore quindi non è supportato per iPhone 4S, iPhone 5, iPad 2, iPad 3, iPad 4 e iPad mini e anche l'iPod Touch di quinta generazione però vi consiglio sempre anche se avete un dispositivo non supportato di salvare questi certificati perché vi assicuro che tornano sempre utili quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di seguirmi su Twitter e anche di dare un'occhiata alla mia pagina di Facebook vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video di Black G Tutorial ciao a tutti